Un nuovo appuntamento nella rassegna Building a Puglia, nella sala Guaccero della Regione Puglia, presentato il libro di Giuseppe Convertino, Tommaso Fiore nella patria di Archità, tra pochissimo. Noi abbiamo terminato questa edizione di TG, grazie per essere stati con noi, buona serata. Si è parlato di questioni meridionali durante il terzo incontro della rassegna Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé. Iniziativa del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia. Due i volumi presentati, Tommaso Fiore nella patria di Archita, di Giuseppe Luigi Convertino, e Geopolitica 2, di Michele Monno. Il primo, rivisitazione critica e omaggio alle opere di Tommaso Fiore, pone l'accento sulla questione meridionale e in particolare sul valore della portualità tarantina, dell'università e dell'ente regione all'interno di un processo di rinascita. Questo libro nasce da un antico ricordo, la morte di Tommaso Fiore, come fu celebrato a Bari, la cerimonia, la gente che c'era, i ragazzi che c'era. Ha analizzato questa presenza di Tommaso Fiore, che è una presenza fatta di un grande esempio di coerenza e di rigore morale e politico. Nello stesso tempo la sua azione è incentivare su Taranto un rinnovo della classe dirigente, che non avvenne purtroppo, ma ne è avvenuto e ha portato Taranto in questa situazione terribile in cui oggi la città si dimene. Geopolitica 2, invece, riflette sulla complessità dello scenario economico e sociale italiano sulla base di dati reali. Dalla contestazione dei diritti acquisiti per riscoprire quelli fondamentali dei popoli, si giunge così a un possibile riequilibrio economico in favore delle nuove povertà. Non è una riflessione sui sistemi valoriali. Chiaro che c'è poi un sottofondo di sistemi valoriali che contribuiscono a definire l'analisi. Noi non abbiamo una classe dirigente nel nostro paese. Io ritengo che la riflessione sull'economico e sociale definisca oggi principalmente il ruolo di una classe dirigente. Cioè, vale a dire, abbiamo assemblato classi dirigenti diverse che vengono da tutti i settori dei diritti, ma non abbiamo una maggioranza coesa sui valori di mantenimento e di coesione sociale. Perché governare un popolo, innanzitutto, significa governare la capacità di sopravvivenza. Prossimo appuntamento con il noto giornalista e saggista Antonio Caprarica.